Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno. Mi fondo in te, oh mio Signore, oh mio Signore, per adorarti nel tuo regno. Emanuele, 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 Cristo Gesù, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, nel tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, oh mio Signore. La Libro di Cielo, volume quarto, capitoli 92 e 93, 11 e 14 ottobre del 1901. Passando vari giorni di privazione e di silenzio, questa mattina Gesù nel venire continuava il suo silenzio. E sebbene l'ho tenuto quasi sempre con me, per quanto ho fatto non mi è riuscito di fargli dire una sola parola. Pareva che teneva una cosa nel suo interno che l'amareggiava, tanto che lo rendeva taciturno e che non voleva che io lo sapessi. Ora, mentre Gesù se ne stava con me, mi è perso di vedere la regina mamma nell'atto e nel vedere Gesù, con me mi ha detto Tu lo tieni? Meno male che sta con te, perché se deve sfogare il giusto furore, stando con te che lo trattieni. Figlia mia, prega che trattenga i flagelli, perché i malevoli stanno tutti in pronto per uscire, ma si vedono legati da una potenza suprema che li imperisce. Ed anche se la giustizia divina permetterà loro di agire, non facendolo quando piace a loro, si avrà questo bene. Che anche i malevoli conosceranno l'autorità divina sopra di loro e diranno, l'abbiamo fatto perché ci è stato dato il potere dall'alto. Figlia mia, che guerra si cova nel mondo morale? Fa orrore a vederlo. Eppure il primo alimento che si dovrebbe cercare nella società, nelle famiglie, e da ogni anima dovrebbe essere la pace, tutti gli altri alimenti si rendono insalubri senza di essa. Fosse pure le stesse virtù, la carità e il pentimento senza la pace non portano né sanità né vera santità. Eppure dal mondo di oggi è scartato questo alimento della pace, sì necessario e salubre, e non si vuole altro che turbolenze e guerre. Figlia mia, prega, prega. Il benedetto Gesù viene alla sfuggita, quasi come un lampo, ed in quel lampo fa uscire da dentro il suo interno, ora uno speciale distintivo di un suo attributo ed ora un altro. Quante cose fa comprendere in quel lampo? Ma ritiratosi quel lampo, la mente rimane all'oscuro. E non sa adattarsi a ridire ciò che ha compreso in quel lampo di luce. Molto più essendo cose che toccano la divinità, l'umana lingua stenta a saperle ridire. E quanto più si sforza, più muta ne resta. Anzi, in queste cose è sempre neonata bambina. Ma l'ubbidienza vuole che mi sforzi a dire quel poco che posso. Ed ecco. Mi pareva che tutti i beni Dio li contiene in se stesso, di modo che trovando in Dio tutti i beni che lui contiene, non è necessario andare altrove per vedere l'ampiezza dei suoi confini. No. Ma lui solo basta per ritrovare tutto ciò che è suo. Ora, in un lampo mostrava un distintivo speciale della sua bellezza. Ma chi può dire quanto è bello? Solo so dire che confrontare tutte le bellezze angeliche domani, le bellezze della varietà dei fiori e dei frutti, lo splendido, azzurro e stellato cielo, che pare che guardandolo ci incanta e di una bellezza suprema ci parla, sono ombre o alito che Dio ha mandato della sua bellezza che in esso contiene, ossia quelle piccole gocce di ruggiata confrontate alle immense acque del mare. Passo innanzi perché la mia mente incomincia a sperdersi. In un altro lampo un distintivo speciale dell'attributo della carità. Ma tre volte santo, come potrò io, miserabile, aprire bocca su questo attributo, che è la fonte da cui tutti gli altri attributi derivano? Dirò solo quello che compresi riguardo l'umano natura, onde compresi che Dio nel crearci, questo attributo della carità si riversa in noi e ci riempie tutto di sé, in modo che se l'anima corrispondesse, essendo riempita del soffio della carità di Dio, la stessa natura dovrebbe, in carità per Dio, trasmutarsi. E come l'anima va diffondendo in un amore delle creature o dei piacere o dell'interesse di qualche altra cosa, così col soffio divino va uscendo dall'anima. E se giunge l'amore terreno a diffondersi in tutto, l'anima resta vuota della carità divina. E sincome in cielo non si entra se non si è un complesso di carità purissima, tutta divina, se l'anima si salva, questo soffio ricevuto nell'essere creata, la andrà a riequistare a forza di fuoco nelle fiamme purganti, ed allora ne uscirà quando giungerà fino a traboccarne fuori. Onde chissà quale tappa lunghissima ne conviene fare in quel luogo espiatorio. Ora, se tale dovrebbe essere la creatura, che sarà il creatore? Credo che sto dicendo tanti spropositi, ma non me ne faccio meraviglia perché non sono mica qualche dotto, sono sempre un ignorante. E se c'è qualche cosa di verità in questi scritti, non è mio, ma di Dio. Ed io resto sempre l'ignorantella che sono. Bene, abbiamo una lezione di Maria Santissima ed un'altra di Luisa oggi. Gesù è rimasto in silenzio, primo a lasciarsi trattenere nel primo capitoletto da Luisa senza parlare. E nel secondo capitoletto, quindi mostrando questa è una caratteristica comune della mistica, e alcune sue relogative e lo facevano in un lampo, tali da non poter essere ridette a voce. Quindi dobbiamo ringraziare Luisa che per obbedienza cercando di arrampicarsi un po' e di esternare il non esternabile, il comunicare il non perfettamente comunicabile, e ci almeno ho lasciato qualche cosa per farci riflettere e meditare. La prima cosa, il silenzio di Gesù. Ci sono delle comunicazioni in cui Gesù non parla, ma semplicemente si fa sentire dalla creatura. Il silenzio è il mondo di Dio, non molto il nostro mondo, ed è il motivo per esempio per cui nelle nostre chiese, cosa oggi, quasi generalmente, grossolanamente disattesa, l'habitat, il clima, è il silenzio assoluto, tra l'altro. E questo non solo quando nella chiesa non ci sono celebrazioni, ma appunto la chiesa aperta e disponibile appunto per la pubblica visita, visita che non dovrebbe essere una passeggiata turistica, mai, neanche nelle chiese d'arte, ma dovrebbe essere sempre un momento di contatto, di ingresso nella casa di Dio. Il silenzio è la dimensione di Dio, perché nel silenzio poi Dio parla con voce non udibile alle orecchie, a volte semplicemente con la presenza, come chi è abituato a pregare davanti al Santissimo Sacramento o davanti al tabernacolo sa, che a volte non c'è bisogno né di proferire parole, né di intendere parole intellegibili, ma basta la presenza di Gesù a molto fare, molto operare nell'anima, sia che essa se ne accorga, sia che essa non se ne accorga. E qui certamente, se è vero che molto spetta ai pastori di educare o rieducare al silenzio, certamente con dolcezza, con umiltà, nella consapevolezza che gli uomini del nostro tempo sono veramente imbarbariti, fino, dice il profeta Giorno, non sapeva distinguere la destra dalla sinistra, per cui, fanno delle cose talmente grossolane che fanno cadere le braccia per terra e che l'unica cosa da pensare è che non si rendono conto di quello che fanno, perché se se ne rendessero conto sarebbe veramente un bel problema. Però tutti dobbiamo essere sempre molto attenti di non metterci il nostro carico. Il silenzio che si deve osservare in Chiesa è pressoché assoluto. E quando per qualche giusta necessità motivata da urgenza reale o da carità effettiva si dovesse avere necessità di proferire qualche veloce parola lo si deve fare non a bassa voce ma sottovoce in modo tale che non sia percepita da nessun altro, che non sia il diretto e prossimo interlocutore. Ed è bene a questi riferimenti a tenersi scrupolosamente il più scrupolosamente possibile onde non macchiarsi di cose non gradite affatto al Signore. Fuori di questa applicazione necessaria anche se non perfettamente congruente e attinente al tema della meditazione torniamo in esso e comprendiamo alla luce della spiegazione della Madonna il senso del silenzio di Gesù. Il senso del silenzio di Gesù era stare in atto di ricevere amore e semplicemente compagnia di un'anima a Lui tanto cara di un'anima vittima che solo con la presenza e quindi anche con la ginnastica del desiderio perché sì Gesù c'è ma non parla in qualche modo come ormai sappiamo trattenesse la divina giustizia quanto meno c'è sempre la Madonna nel senso di far rendere conto ai malvagi qualora riuscissero a mettere in atto i loro intenti che lo fanno solo per divina permissione come del resto Gesù non mancò di far notare per esempio a Ponzio Pilato citando le stesse parole tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stare dato dall'alto l'abbiamo fatto perché si è stare dato il potere dall'alto è un potere permissivo sono quelle volte in cui nei suoi impescutabili disegni e decreti Dio permette che il male operi in vista dei suoi misteriosi disegni che terminano sempre con la disfatta di esso e questo è quello che deve farci sempre riposare nella più assoluta calma serenità pace fiducia e abbandono poi la Madonna dice un'altra cosa parla da regina della pace quale la è nulla di più prezioso di più importante c'è della pace a tutti i livelli a livello politico mondiale quindi quando si parla di guerra in senso stretto ma anche a livello molto personale quindi a livello di rapporti infranazionali diciamo così per esempio anche tra le forze politiche tra i vari gruppi sociali sindacati e confindustri vari insomma tra noi tra parenti tra familiari tra colleghi tra amici tra parrocchie tra membri delle comunità parrocchiali tra vari membri di realtà ecclesiali associazioni gruppi movimenti tra pastori e greggie tra greggie e pastori la pace giustamente dice la madonna se non c'è la pace addirittura la carità o il pentimento senza la pace non portano né sanità attenzione né vera santità vera santità è un po' più comprensibile al volo ma nemmeno la sanità e penso qui la madonna faccia riferimento certamente alla sanità del corpo ma anche alla sanità mentale perché stare sempre avvelenati in mezzo a conflitti su conflitti su conflitti come dire è un flaggello continuo che la nostra mente riceve a cui è sottoposta e tira oggi e tira domani e tira dopo domani lasci inevitabilmente degli squilibri oggi un problema grande è sempre più diffuso a causa del dilagare appunto del male ma anche proprio di questa continua tensione e discordia e assenza di pace sono appunto le malattie psichiatriche che sono molto diffuse non soltanto la tanto rinomata e poco conosciuta depressione poco conosciuta nel senso che dal punto di vista clinico a quanto ne so ecco non è facile individuare percorsi terapeutici sia farmacologici che non ma anche tante altre forme no di 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 psicosi cioè ci sono delle personalità come dire massacrate ecco che inevitabilmente stanno male allora certamente la Madonna sempre è sortato anche in tempi recentissimi a pregare e a fare il possibile per la pace quando cade questa meditazione ecco si è risaputo una bellissima notizia a livello internazionale che era pace la stretta di mano tra i presidenti delle due Coree del Nord e del Sud questo è un evento veramente da salutare con la massima gratitudine certamente figlio di molte preghiere di molti sacrifici senza nessun dubbio eh di anime sante di anime rette che nessuno sa ma hanno ottenuto questa grandissima inaspettatissima grazie alla parte del Signore no che va a spegnere un focolare che era veramente una una caldera in via di esplosione insomma e se esplode quella è veramente un disastro in tutto il mondo eh non dobbiamo però stancarci di pregare offrire sacrifici e penitenze perché in altri luoghi del pianeta Terra ancora ci sono focolai brutti vediamo tutti i giorni insomma di violenza di sovraffazione di tensione di ingiustizie noi dobbiamo praticare la pace anzitutto secondo il Vangelo perdonare tutti chiedere perdona che abbiamo fatto del male e mai in nessun modo stare in condizione di non essere in pace con tutti per quanto sta in noi quindi praticare la pace dobbiamo predicare la pace sono soltanto i preti o i frati a tutti i livelli e dobbiamo pregare per la pace ed essere anche capaci di soffrire e offrire per la pace un tema che deve stare a cuore dei figli di Dio che è il pacifico per Antonomasi terminata la lezione di Maria quindi santissima quindi abbiamo molto da meditare sul silenzio e sulla pace passiamo a questi due attributi divini che sono la bellezza e la carità di cui Luisa come può ci ha dato qualche descrizione e anche neanche troppo tra le diche qualche piccola lezione per innamorarsi di qualcuno o di qualcosa bisogna conoscerne e comprendere la bellezza l'uomo si innamora di ciò che è bello e il tema della bellezza di Dio penso per esempio su questo alle lezioni che a suo tempo ci diede il Papa Emerito quando era Papa in carica insomma che era Benedetto XVI molto attento a queste a queste cose la bellezza è è una delle caratteristiche proprio più intrinseche di Dio perché tutto ciò che vediamo in giro tutto qui lo spiegano pensiamo anche alle persone che sono umanamente bellissime ci sono delle persone che sono bellissime che hanno delineamenti stupendi corpi statuari gli uomini le creature umane come spiega dopo si fissano sulle creature si gettano sulle creature che sono un lontano simulacro della bellezza del creatore e attaccandosi appiccicandosi bramando esse perdono ogni tipo di contatto con la bellezza suprema che è quella del creatore non sanno godere delle cose belle che Dio ha creato nel modo con cui Dio vuole che se ne goda quindi anzitutto come strumenti per elevarci a Lui come Suoi piccoli ti amo che ci veicolano la sua bellezza ed ha anche con i limiti in cui è possibile e lecito fruirne e goderne sempre nell'osservanza della sua legge e dei suoi voleri questo è il modo corretto con cui dovremmo relazionarci con le cose belle no? non trasformarle in veleno come fanno praticamente tutti quanti gli uomini ma Dio ha la bellezza stessa cioè tutto quello di più bello che noi vediamo in giro e ce n'è molto da vedere quindi la grande maggioranza degli esseri umani non conosce quasi nulla del pianeta terra conosce pochissimo il pianeta terra è grande anche se è meno di una punta di spillo non solo nell'universo ma già nella nostra galassia insomma molte persone a molte persone piace molto viaggiare c'è qualcuno che se lo può anche permettere quindi vedere contemplare no? ma la vita umana è breve quindi per quanto uno possa andare gironzolando parecchio non può vedere tutta la terra ecco assolutamente e ognuno può vedere qualcosa ecco ma non importa questo qui perché non importa che alla fine della vita terrena possiamo vedere colui che ha fatto la terra che l'ha disseminato è di così tante bellezze per noi ecco perché potessimo in parte goderne ma potessimo poi tendere alla suprema bellezza che supera tutte ecco le forme create di bellezza no? e questo è Dio chi può dire quanto è bello noi sappiamo che chi ha visto la la Madonna rimane veramente santamente sconvolto perché la descrivono come indicibilmente bella perché la Madonna è un concentrato ecco creaturale possiamo dire così della bellezza divina è veramente la più bella di tutte come dire nella sua persona è la sintesi di ogni bellezza creata però la Madonna è sempre un ente creato per quanto possa essere completamente come lo è divinizzato quindi certamente le persone che raccontano l'avere visto la Madonna dicono se la Madonna è così ma Dio come sarà appunto questo sia come dire l'ala che ci faccia innalzare bene dalla terra e tendere a ciò che era nostra meta poi bellissima la lezione sulla carità noi sappiamo che la carità è certamente un attributo divino ma è anche parte come dire anche il cuore dell'essenza divino perché Dio non ha soltanto l'amore ma Dio è amore e ciò che fa aspirare ciò che fa sorgere la vita stessa trinitaria che è una vita che sorge semplicemente eternamente ed è perpetuamente in atto quindi la mirabile ispirazione delle tre persone divine padre all'origine il verbo è il generato e lo spirito santo è colui che procede tutto questo è mosso diciamo così secondo il nostro modo di parlare semplicemente dall'amore che fa parte dell'essenza divina non soltanto negli attributi anche se ne è ovviamente poi il primo e che cosa spiega come può Luisa ciò che noi sappiamo dentro di sé Dio è amore le tre persone divine sono l'attestazione dell'amore essenziale della divinità ma quando Dio opera al di fuori di sé e ogni azione che fa al di fuori di sé assolutamente non solo libera ma non necessaria tutto ciò che Dio fa è solo mosso dall'amore solo e e quindi appena ti crea tutta la sua carità si riversa in te e se tu rispondessi e corrispondessi ti trasmuteresti in amore di Dio è un po' come era la vita della Madonna il problema è che quando quest'amore che c'è nel cuore dell'uomo va a appoggiarsi a fissarsi disordinatamente quindi con attaccamento e dimenticanza del creatore su qualche bene creato su qualche piacere su qualche interesse come dire avviene il processo di evaporazione d'accordo con il soffio di vino uscendo dall'anima e se proprio l'anima si diffonde completamente su ciò che è terra esce del tutto solo che come sappiamo anche da altri scritti Dio in paradiso non può non si entra in paradiso se non si è simile a lui e essere simile a lui significa semplicemente essere infuocati bruciati dall'amore e se questo non c'è da qualche parte di Gran Napoli un fuoco sarà picciato e quindi c'è il purgatorio e quanto più le persone hanno disperso quest'amore tra tante cose vane effimere inutili tanto più lunga e dolorosa sarà la tappa e la sosta nel luogo di espiazione questo non c'è niente da fare uno può crederci non crederci pensare che sono esagerazioni che tanto Dio manda tutti in paradiso i limiti della nostra libertà sono potenzialmente sconfinati così come ahimè anche la nostra capacità di creare false illusioni che generalmente sono cose che fanno comodo alla nostra umana volontà e al nostro quieto vivere ecco ma sono lontane dal vero è vero che noi non dobbiamo essere mossi nel nostro agire dal timore ma dall'amore quindi non è che uno si impegna nell'amore solo per evitare di stare troppo a lunghi in purgatorio però ecco almeno come primo approccio specialmente da parte delle anime che sono veramente molto lontani il pensiero questo pensiero così come per quanto riguarda le cose più gravi il salutare da sempre raccomandato mai controindicato pensiero dell'inferno può fare molto del bene ecco per cui bisogna fare attenzione guardarsi dal mettere troppo frettolosamente ecco nel dimenticatoio anche questi aspetti fondamentali che sono nuovissimi ecco della vita della spiritualità bimillenaria della chiesa ecco in nome ecco di questa colossale talora collettiva illusione che Dio sia un buon accione insomma alla fine straccia tutte quante le gambiali abbiamo scherzato non esclusi i demoni dice qualcuno la possibilità di redenzione per essi insomma che un'eresia cosa quanto una casa è assolutamente falso è una cosa non vera ecco e da non credere per nessun motivo ecco quindi bisogna bisogna fare molta attenzione e per questo poco insomma che queste anime che hanno avuto la grazia di poter avere ecco questi grandi lampi che sono le visioni intellettuali le visioni intuitive dicono nella storia della Missi che sono quelle che in un attimo proprio espressione delle proprietà divine ti sverano immensi misteri ma lasciandoti senza possibilità di comunicarli adeguatamente però sono anche a Stradaggio di San Giovanni della Croce le comunicazioni più certe più sicure più profonde più feconde sia per l'anima che le riceve sia in ordine a quelle cognizioni che comunque in qualche modo poi si formano e seppur a fatica vengono in minima parte condivise che sono sommamente da ritenere ed edificanti per coloro che ne vengono a conoscenza quindi conoscendo la somma bellezza e la somma carità facciamo in modo di innamorarci di lei e di corrispondere in tutto al suo amore limitando alle creature quel poco che è loro dovuto e sempre nel giusto ordine e nel rispetto della legge di Dio di un'altra che è stato in quanto le persone le persone è solo di un'altra che è stato capitare Grazie a tutti. Amatissima per la grande lezione sulla pace che tu Agnella Pacifica hai donato a noi, la pace è l'habitat naturale di Dio e dei figli di Dio. E come dice il tuo figlio Gesù Beati sono gli operatori di pace appunto perché saranno chiamati figli di Dio, simili a Lui, rassomiglianti a Lui. Camminiamo il cammino della pace sulle tue orme, della pace vera, sappiamo molto bene che la pace vera non esiste se non c'è pace, anzitutto con Dio e con noi stessi. guidati dalle tue sante mani, certi di muoverci quando siamo in questo ambito, nei limiti del divino volere. La fede e la spiritualità molto ci insegnano su ciò che Dio è, sui suoi attributi, ma è nulla in confronto a ciò che Egli è in se stesso e che tu sola perfettamente conosci di Lui. Aiutaci però a non essere attaccato a nulla di creato per non perdere il creatore. Sappiamo che l'unica eccezione, come ci insegna San Luigi Maria Monforto, sei tu, nel senso che possiamo tranquillamente attaccarci a te senza nessun pericolo, perché tu ci attacchi automaticamente a Dio. Però sei l'unica eccezione per quanto riguarda l'attaccamento e l'amore e fa che possiamo sempre muoverci nell'ambito della regola e di quest'unica eccezione. Per il nostro bene, per la nostra felicità e per il bene di tutti. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni madre, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Fiat, Ave Maria.